Bentornati carissimi qui sul canale del Dottor Sedray. L'altro giorno ero di umore canterino e giravo per la casa canticchiando, cantando varie canzoni. Ebbene, avevo voglia di cantare, stavo cantando e non solo stavo cantando, ma mi sembrava, avevo l'impressione, di stare cantando veramente bene. E quindi, preso da questa meraviglia di melodia che fuoriusciva dalla mia voce, ho detto Senti, proviamo a registrare così vedo se effettivamente sono intonato quelle volte che mi sembra di essere intonato. Vi lascio un piccolo estratto per valutare voi stessi. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti Aberrante, aberrante, terribile, osceno, devastante, un crimine contro i timpani, un qualche cosa di vergognoso. Pensate che mentre registravo pensavo magari potrei avere dei problemi con il copyright perché la canzone può essere scambiata per l'originale. E invece quello che è uscito fondamentalmente è un qualche cosa di ridicolmente osceno, un qualcosa per cui il me del passato se sapesse che l'ho messo su internet mi offenderebbe a morte e farebbe tutto sommato bene. Detto ciò, perché vi ho costretto a subire questa tortura, a beccarvi questa mia meravigliosa prova canterina? Perché stavo ragionando sulla capacità che abbiamo noi esseri umani, basandomi sull'oggetto dell'esperimento, che in questo caso ero io, di valutare noi stessi. Noi viviamo in una società in cui tutto viene valutato. Ogni cosa è oggetto di valutazione di chiunque ne abbia accesso e sempre più persone hanno accesso alla stragrande maggioranza delle informazioni che vengono diffuse. Perché? Perché internet in questo caso è estremamente livellatore. Ormai quelle che erano le barriere storiche, per cui solo una parte della società arrivava alla conoscenza delle informazioni pubbliche, non esiste praticamente più, essendo ormai stato quasi debellato all'analfabetismo. Certo che mai completamente. Ebbene direi che non è così facile valutare a se stessi. Perché quando noi pensiamo a noi stessi, non pensiamo a noi come ad un altro da noi, ma pensiamo esattamente a ciò che siamo. Abbiamo difficoltà a scindere il nostro essere soggetto dal nostro essere oggetto. E infatti siamo bravissimi a vederci determinati difetti quando ci oggettifichiamo, quando abbiamo noi stessi come altro da noi. Ovvero nella situazione in cui ad esempio c'è un qualche tipo di registrazione, quello che vi ho appena fatto sentire, un nostro riflesso, quando ci vediamo allo specchio, quando ci vediamo alla foto. Quando la nostra immagine, il nostro sé, il nostro coacervo di elementi che compongono ciò che siamo noi, possiamo oggettificarlo, vederlo di fronte a noi. Come siamo noi in quanto esseri umani? Come sono io in quanto essere umano? Sono in grado di analizzarmi, di valutare le mie capacità? Sono in grado di considerare se io sia o meno una brava persona o la mia prospettiva, quella soggettiva, mi renderà impossibile questo tipo di valutazione? Questo è un dubbio abbastanza interessante. In realtà abbiamo visto anche come per Fichte l'io non sia altro che una frazione di un unico io assoluto di cui tutto il mondo non è altro che una manifestazione. E quindi fondamentalmente ognuno di noi, in quest'ottica, sarebbe una porzione diversa della medesima cosa. Però questa diversità si manifesta in modo clamoroso, perché esistono infinite possibilità di manifestarsi in questo mondo, non solo in quanto essere umano, ma in quanto entità che questo mondo abita. Certo, se vogliamo racchiudere il frazionamento dell'io solo a coloro che possono utilizzare la ragione, questo numero diminuisce, ma rimane sempre infinito. Cioè le possibilità di manifestazioni, i modi in cui il mondo può abbellirsi con la presenza di esseri umani diversi, è infinito. Non ci sono limitazioni alle possibilità. Esistono limitazioni soltanto nel momento in cui andiamo effettivamente a considerare l'universo come finito. Ma nel momento in cui assumiamo che l'universo sia infinito, saranno infinite anche le possibilità di manifestarsi in quanto enti razionali al suo interno. E quindi ognuna di questi enti razionali, se guardasse veramente dentro di sé, in un'ottica come quella fictiana, ma come poteva anche essere quella plotiniana, che infatti proprio sul guardare dentro di sé, sul cercare uno sviluppo della propria autocoscienza, per usare un termine assolutamente inadatto per parlare di plotino, però autoconsiderazione di elemento del tutto. Lui riteneva che ognuno di noi fosse una chiave, anzi più una serratura, e che attraverso la chiave dell'autoconsiderazione, della chiusura in sé stessi, e della contemplazione di ciò che siamo al di fuori dell'esperienza sensibile, della vita in un'esperienza sensibile, si potesse vedere quella verità di cui siamo un piccolo barlume. E in questo senso è veramente neoplatonico plotino perché fa fortemente riferimento al rapporto di partecipazione, che poi è anche quello dell'illuminazione. E ogni anima è comunque una manifestazione imperfetta di un qualche cosa di unico, indivisibile, perfetto, in quanto partecipiamo di quest'unità, di quest'uno a cui plotino era particolarmente legato. Il mondo in cui viviamo però ci dà quasi la sensazione che così non sia. E perché ci dà questo tipo di sensazioni? Perché ognuno di noi è diverso da chiunque altro, e ognuno di noi ha proprio difficoltà a valutare sé stesso rispetto alla facilità che ha invece nel valutare ciò che è altro da sé. Ma detto questo, il piano di realtà su cui viviamo effettivamente ci spinge a considerare ogni individuo come separato dagli altri, a prescindere da quello che sia la sua fondazione metafisica. Ognuno di noi sembra individuale, quindi una prospettiva più relativistica, meno legata al concetto unificatorio, che può essere per l'appunto quello di uno o di io in fichte, sembra quella che è più doveroso adottare per vivere adeguatamente in questo mondo. Ma nel momento in cui assumiamo anche una prospettiva relativistica, comunque va sottolineato quell'aspetto che invece aveva individuato Kant, il fatto per cui sembra che dentro ognuno di noi ci sia un qualche cosa di fisso, un qualche cosa che non siamo in grado di rendere oggetto di opinione, perché in un certo senso ci è tatuato nell'anima. Ovviamente faccio riferimento alla legge morale kantiana, che secondo lui è dentro ognuno di noi, ogni individuo. Una delle obiezioni più forti a questa presa di posizione di Kant può essere sicuramente il fatto per cui la moralità è cambiata nel corso del tempo, l'etica di gruppo è cambiata nel corso del tempo, alcune cose che venivano considerate come giuste, come ad esempio al tempo dei Greci o dei Romani, come poteva essere oltre all'amore nei confronti dei gioveniti, che è la prima cosa che viene in mente, ma anche la schiavitù stessa è un qualche cosa che faceva parte della società, veniva messo in dubbio, non era oggetto di opinione. La schiavitù c'era, faceva parte dell'essere, un essere umano. Oggi le cose non vanno minimamente più così, nessuno penserebbe di comprare lo zio in quanto schiavo per poi eventualmente renderlo liberto e tenerlo giù in giardino a gestire le piante, mentre lui non fa altro che dargli altri ordini. È una cosa che, per quanto alcuni potrebbero desiderare, non viene sicuramente, non verrà sicuramente adottata dalla società da qui a un bel po', mi sembra, e nonostante ciò ai tempi era considerata normale. Non immorale. Immorale non era certamente l'avere uno schiavo, e quindi questo non era oggetto di opinione. E questo sembrerebbe dar ragione alle prospettive relativistiche totalizzanti, per cui non c'è niente di fisso, non c'è una vera verità, e la verità non è altro che un prodotto umano, come potrebbe essere il pensiero di Protagora. Un prodotto sulla base della nostra grandezza, pensato a metro d'uomo. E dopo questa tempesta di pensieri di carattere filosofico, domando a voi, si può quindi dire che esista un qualche cosa di fisso dentro di noi, e che non sia tutto estremamente relativo? Siamo in grado noi, in quanto individui, di valutare noi stessi? Sia come persone all'interno di un gruppo, cioè io so dire se sono una persona simpatica, se sono bravo a gestire i rapporti personali, o valuterò me stesso in modo sempre viziato. È obbligatorio non essere in grado di fuoriuscire da sé e vedersi come un oggetto altro da sé, come un qualsiasi altro oggetto da sé che possiamo valutare, che siamo in grado di valutare. Oppure non siamo in grado di valutare noi stessi, e addirittura potremmo anche sostenere di non essere in grado di valutare assolutamente nessuno, perché siamo sempre noi stessi a valutare, ed essendo noi a valutare, l'oggetto stesso del nostro esperimento sarà influenzato dal nostro essere noi stessi. Che ne so, chi lo sa? Non sapendolo vi pongo la domanda. Se avete qualche ipotesi scrivetemelo pure nei commenti, fatemi sapere quella che è la vostra idea. Questo video un po' così nasce semplicemente da questa mia mattinata canterina e dalla mia voglia di valutarmi. Lo do però anche per invitarvi alla live che ci sarà domani, come abbiamo fatto filosofia in questi dieci minuti di video, almeno ho tentato di farlo, spero di poterlo fare anche con altri, e domani avrò infatti come ospiti Luca Di Vincenzo, ricercatore e presidente di EduTube, oltre a Ivan ed Emanuele del canale I Cavernicoli. Parleremo di quali siano gli obiettivi per una persona che oggi decide di studiare, di laurearsi, di approfondire anche personalmente la filosofia e perché si studia filosofia anche nel 2021. Noi quindi ci vediamo assolutamente domani e io vi auguro una buona giornata. Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti Viva alberi Alberi infiniti Quando tu